Da distretto militare di un tempo, futuro spazio multifunzionale aperto al pubblico nel cuore del capoluogo. È apprezzabile a vista d'occhio l'avanzamento dei lavori nell'area dell'ex Chiesa dei Gesuiti, cantiere facente parte del progetto di rigenerazione urbana della città di Belluno, del valore di 2 milioni di euro. L'ultimo in ordine di tempo, una nuova apertura muraria. Una nuova apertura nel muro di Cinta, che non è un muro originale ma di epoca successivo, realizzata per cura degli alpini, per rendere autonomo proprio l'ingresso della sede degli alpini, dei propri automezzi e della protezione civile. Un analogo intervento di apertura nel muro di Cinta consentirà in futuro ai cittadini di entrare nell'ex Chiesa direttamente dal parco città di Bologna. In campo vi sono varie proprietà, una dell'Agenzia del Demanio, una del Comune ed una di un fondo immobiliare. Proprio in questi giorni è stato presentato in Comune anche il progetto di riqualificazione della porzione di proprietà dell'Agenzia del Demanio, che interverrà sulla porzione compresa in prossimità dell'incrocio di via Tissi, con un intervento di sistemazione di tutto l'immobile proprio per trasferire degli uffici dalla periferia di Belluno al centro e quindi andando nella direzione della valorizzazione con nuove funzioni di questo importante complesso. Un complesso destinato a ridisegnare in qualche modo il volto di una porzione considerevole del centro cittadino. Sia come impostazione urbanistica esisteva un tempo e viene ripristinato questo collegamento tra il parco e via Tasso, quindi attraversando, quasi con una galleria coperta, una piazza coperta, attraversando un edificio ci si potrà spostare all'interno della città, quindi anche un colpo d'occhio diverso per il cittadino, ma allo stesso tempo al primo piano una grande sala polifunzionale che quindi avrà una funzione libera proprio e pubblica. Non lontana la conclusione dei lavori per quanto attiene alla parte seguita dal Comune. Tempistica prevede che si possa poter apprezzare questa struttura nell'autunno già di quest'anno.